Il Mantova è una delle vittime illustri di questo periodo perché ogni estate ormai è rituale che ci siano dei fallimenti a catena. Dal punto di vista della categoria giocatori, al di là delle ovvie considerazioni, come si vive dal dentro questa situazione? Una situazione spiacevole perché innanzitutto una società che fallisce lascia per strada decine di giocatori. Per chi la vive da dentro vuol dire in parole povere anche perdere un sacco di soldi che poi grazie al fondo dell'AIC potranno essere recuperati, se non dico nella totalità, però in buona parte nel corso dei mesi. Però è un fenomeno che purtroppo sta aumentando secondo me drasticamente negli ultimi anni. Spero che ci possano essere normative che portino le società a descriversi solamente in condizioni di sicurezza. Spero che si affaccino a mondo del calcio i prenditori seri che portino a compimento il loro dovere senza scomparire da un giorno all'altro. Come e quanto hai notato in questo periodo la presenza dell'AIC? Io sono anni che sono associato all'AIC, che collaboro e devo dire che posso esprimere solamente dei pareri positivi in merito alla gente che lavora per l'Associazione Italiana Calciatori. In queste due settimane e mezzo, toccando con mano però alcuni meccanismi proprio al di dentro, ho potuto verificare che oltre a una grande professionalità c'è anche una grossa umanità, che è importante, specialmente in una fase come questa, per noi giocatori senza contratto, in cui una parola di conforto, al di là di una nozione tecnica o di un aiuto sul campo, può essere fondamentale. Quindi mi ritengo nella sfortuna un privilegiato rispetto a tanti altri giocatori che magari sono senza contratto e sono a casa. Un'esperienza particolare per te questa del ritiro per il campionato dell'AIC in un momento sicuramente particolare della tua vita e della tua carriera? Sicuramente un'esperienza inaspettata fino a solamente due o tre mesi fa, un'esperienza che però mi sta dando tanto. Quando sono arrivato il primo giorno sinceramente c'era un po' di scoramento, vuoi per la stagione appena passata, vuoi per il futuro pieno di incertezze, ma mai avrei pensato dopo due settimane e mezzo di trovarmi invece con un gruppo di ragazzi motivati e vogliosi di rimettersi in discussione come i ragazzi che ci sono qua a Coverciano. L'AIC oggi si trova a combattere moltissime battaglie perché gli attacchi e la categoria vengono da più fronti. A livello di normative si discute molto su quella dell'obbligatorietà dei giovani in Lega Pro. Qual è la tua opinione? Io non è che sia molto favorevole a questa regola perché i giovani che oggi diventano indispensabili l'anno prossimo saranno equiparati a tanti altri e conteranno poco o nulla. Quindi secondo me il problema andrebbe risolto all'origine, secondo me è dai settori giovanili che bisogna ripartire, bisogna lavorare molto di più sul settore giovanile facendo crescere giovani con una mentalità nuova, diversa, un approccio diverso e solo così potremmo favorire un ricircolo a livello generazionale. Altrimenti si imporranno delle regole che però non porteranno mai a una crescita secondo me qualitativa a livello calcistico delle nostre squadre. Qui voi lavorate molto anche per quello che comunque potrebbe essere un vostro futuro, un domani su una qualche panchina come allenatori. A livello di corso allenatori come giudichi il livello dell'iniziativa nell'iniziativa che è presente? Tranquillo. No perché dopo mi devo incastonare a me. Vai vai vai. Voi siete qui anche per diventare magari un domani allenatori, qual è la qualità del corso che vi viene proposta? Allora una qualità secondo me molto alta, c'è da dire che l'impegno è tosto perché comunque tre lezioni al giorno scandite tra mattina, pomeriggio e sera mettono a dura prova anche l'attenzione di noi calciatori perché essendo sballate anche da allenamenti diciamo che spesso si arriva a fine serata un pochino pieni. Però tante nozioni anche per giocatori di 30-35 anni magari sono state date per anni o per scontate, sono state tralasciate. Mi piacerebbe magari un domani che certe lezioni fossero impartite anche a inizio carriera magari. Non dico di rendere obbligatorie delle lezioni per dei calciatori in giovane età però sicuramente tante cose sono state scoperte oggi anche da me e questo sono sicuro che mi aiuterà non solo come allenatore ma spero anche come calciatore per quei pochi, spero anche tanti anni che potrò fare da calciatore.